Oggi dobbiamo vedere la prestazione, penso che dobbiamo lasciare perdere questi risultati. Ovviamente la Juve sappiamo tutti quanti qualità hanno, hanno avuto poche occasioni ma hanno fatto gol sul suo, noi no. Quella ha fatto la differenza in questa partita perché siamo stati squadra, abbiamo dato tutto e adesso sappiamo tutti dove andiamo la prossima settimana nella Venezia e dobbiamo partire e portare questa sensazione di cosa abbiamo fatto oggi là perché ovviamente questa sarà una gara fondamentale, anche dopo viene altre, tutte le partite adesso sono fondamentali, cosa noi dobbiamo vedere, sappiamo che siamo forti ma dobbiamo vedere ogni partita a questo spirito. Siamo in un momento così, sappiamo tutto dove siamo e in questi momenti adesso non abbiamo anche la fortuna in questi momenti di portare un risultato perché oggi ci stava con una pareggio secondo me, anche come abbiamo fatto dopo il 2-1 che è venuto dopo un rigore spagliato, abbiamo fatto bene. È difficile adesso, siamo qua con 3-1 ma dobbiamo alzare la testa subito perché è troppo importante adesso vedere avanti e portare questa, la sensazione in squadra anche fuori Marassi perché qua in Marassi abbiamo giocato l'ultima partita bene, adesso dobbiamo portare questa anche quando giochiamo fuori casa.